ben ritrovata e ben ritrovati nello studio podcast sardegna goal oggi in compagnia del dottor mario pivi medico specialista in pediatria buongiorno dottore buongiorno oggi faremo un approfondimento per i nostri ascoltatori specialmente per i per le giovani madre giovani padri relativamente al tema dello streptococco e la scarlattina iniziamo subito con i sintomi le diagnosi della tonsillite da streptococco emolitico di gruppo a quali sono i sintomi tipici di questa patologia allora dobbiamo dire che lo streptococco nel 20 25 per cento dei casi è la causa della tonsillite poi ci sono un 70 per cento di forme quasi sempre virali che in genere guariscono da sole queste forme virali a volte non hanno bisogno di nessuna terapia qualche altra volta possono avere bisogno di terapie sintomatiche o se ci sono complicanze anche di altre terapie ma non ci interessano adesso parliamo invece della faringotonsillite da streptococco qual è il problema lo streptococco è un microbo che colpisce intorno dal 15 al 25 per cento forse anche il 30 i bambini e è necessario una diagnosi possibilmente veloce precisa che poi ci consente anche una terapia ammirata quindi viene un paziente si fa la visita si controlla loro faringe si controllano le tonsille e spesso il primo giorno magari c'è solo un notevole arrossamento di queste parti però a volte quando il bambino viene già dopo due giorni tre giorni vediamo già le cosiddette placche che sono praticamente l'esito di una guerra tra i globuli bianchi e lo streptococco e queste placche sono date dai globuli bianchi morti e questo ci è utile perché è facile così fare una diagnosi peraltro oggi sono disponibili nelle farmacie i test rapidi che ci danno la conferma perché ci serve la conferma perché spesso il quadro non è così chiaro allora una tonsillite che non è da streptococco magari ha bisogno di sei giorni di terapia una tonsillite da streptococco invece almeno dieci giorni e anche con una dose adeguata perché se noi diamo una dose non adeguata se lo streptococco tende a recidivare anche dopo 20 giorni mi è capitato spesso dopo due mesi dopo tre mesi mario qual è il trattamento standard per la tonsillite da streptococco con i bambini allora il trattamento standard è un antibiotico che si chiama amoxicillina e deve essere dato alla dose almeno di 50 mg pro chilo anche 60 perché dobbiamo considerare che l'assorbimento della moxicillina è intorno all'80% quindi dobbiamo mantenerci a una dose giusta perché se è sottodosato magari funziona lo stesso al momento però poi magari dopo 20 giorni recidiva quali sono invece le possibili complicazioni legate alla tonsillite da streptococco? allora le possibili complicazioni sono molte però parleremo delle due più gravi e più importanti una è la malattia reumatica e l'altra è la glomerulonefrite post streptococica la malattia reumatica praticamente è causata da una similitudine antigenica di alcune strutture del cuore che vengono aggredite dagli anticorpi che il nostro corpo ha formato per combattere lo streptococco e questo avviene soprattutto se le infezioni da streptococco sono ripetute c'è un modo per sapere se il paziente è a rischio di malattia reumatica è la misurazione facendo gli esami del sangue del cosiddetto ASLO cioè titolo antistreptolisinico se il titolo antistreptolisinico è più alto del normale ma a volte è anche 3, 4, 5 volte tanto il livello normale allora ci dobbiamo allarmare perché comunque questo è un paziente che può essere a rischio invece facendo il punto sulla prevenzione quali misure di igiene e prevenzione secondo te si possono adottare per evitare la diffusione della tonsillite da streptococco in famiglia? allora in famiglia chiaramente se c'è il bambino diciamo che ha una tonsillite da streptococco e c'è un fratellino almeno i primi tre giorni sarebbe meglio che non stessero a contatto stretto perché sennò contagiamo pure l'altro questo è sicuro poi esistono dei trattamenti però non specifici a base di praticamente antigeni dei vari microbi che colonizzano la gola che tutto sommato necessitano di mesi e mesi di terapia però in generale funzionano e il paziente si amala di meno però non è un trattamento specifico contro lo streptococco e invece per quanto riguarda le ricadute le recidive quali sono le probabilità di ricaduta da tonsillite da streptococco? sono alte ed veramente come si possono prevenire? allora le ricadute sono alte anche se viene curato bene se non viene curato bene sono molto alte ma ogni 3-4 mesi si può fare un tampone faringeo e poi si può controllare il titolo antistreptolisinico ogni 6 mesi perché comunque se si solleva molto siamo a rischio poi c'è sempre quel discorso del principio attivo di cui parlavi prima dei farmaci generici insomma sì no va bene ma allora la moxicillina esiste da tanti anni scaduto il brevetto tutte le dita la possono fare la legge che ha introdotto i generici consente che il dosaggio possa variare più o meno del 20% e quindi tutto sommato se prescriviamo un generico bisogna darne un po' di più perché se no potrebbe non bastare la terapia perché insomma diciamo che poi le aziende che prugono questi prodotti poi chiaramente se gli consentono di mettercene un po' meno magari un grande risparmio per loro per i produttori e invece per quanto riguarda l'alimentazione c'è qualche cosa da consigliare allora quando la gola è molto infiammata chiaramente io preferirei un'alimentazione magari liquida semilliquida almeno i primi 2-3 giorni anche perché siccome la gola chiaramente è molto infiammata e il bambino ha dolore e certi alimenti che magari possono impegnare la gola magari gli fa male la gola e non li vogliono quindi già meno appetito perché comunque il bambino è malato spesso ha la febbre in più se poi sente dolore anche quando deglutisce a quel punto quello non mangia più niente e invece sui tempi di recupero quanto tempo ci vuole leggeramente per guarire completamente da una tonsillite da seppoco? ma per guarire completamente come sintomi magari dopo 4-5 giorni 6 giorni però la terapia deve essere più lunga perché lo streptococco colonizza le tonsille spesso si trasferisce dentro le tonsille sembra guarito e poi ogni tanto viene fuori di nuovo è una sua caratteristica specifica non succede a tutti i bambini però quando succede le recidive sono frequenti anche se viene curato bene per quanto riguarda invece la rimozione delle tonsille secondo te in quali casi è consigliabile considerare proprio questo intervento? allora ci sono due casi o per un'ipertrofia molto notevole e che quasi impedisce al bambino di respirare e qui lo streptococco non c'entra oppure quando le tonsillite da streptococco sono talmente frequenti e recidiva continuamente e spesso il bambino ha tutte le sere alla febbre allora chiaramente bisogna un pochettino collaborare con lo specialista ottorino la ringoiatra soprattutto un ottorino ospedaliero che chiaramente ha una forte casistica poi eventualmente può anche organizzare l'intervento di tonsillectomia passiamo adesso invece a un'altra patologia scarlattina quali sono i sintomi tipici di questa? allora la scarlattina è sempre data dallo streptococco betaemolitico di gruppo A però ha in sé la cosiddetta tossina eritrogenica cioè la scarlattina è una tonsillite pure quella è una tonsillite eritematosa cioè oltre ad avere una tonsillite che produce anche un arrossamento notevole delle parti gola, tonsille produce anche la cosiddetta tossina eritrogenica che praticamente interessa soprattutto il torace poi anche mani, piedi e questo è anche meglio perché così almeno la madre si allarma e porta il bambino dal medico o dal pediatra i classici puntini rossi insomma i classici puntini rossi perché spesso una tonsillite normale se la febbre è bassa viene a volte anche sottovalutata ma a volte anche con ragione mentre la mamma quando vede questi sintomi il bambino con una forma esantematica si allarma e lo porta subito quindi la terapia così si può iniziare subito e come viene diagnosticata? beh innanzitutto si può fare sempre il test e viene fuori lo streptococco e poi è facilmente perché ci sono due sintomi nelle altre malattie esantematiche ci sono gli esantemi però non c'è una tonsillite esistono secondo te misure preventive per diciamo evitare la diffusione della scarlattina ma quando un bambino è malato bisogna tenerlo a casa almeno 3 o 4 giorni e iniziare subito la terapia perché sennò ne contagia altri 5 a scuola e qual è il trattamento standard per la cura? è sempre amoxicillina è lo stesso perché i due microbi praticamente sono uguali una in più ha la produzione della tossina eritrogenica e l'altra non ce l'ha ma i danni che fa siamo lì e per quanto riguarda le possibili complicazioni anche qui quali possono essere? sempre anche l'ascesso al retrotonsillare possono esserci anche una diffusione dell'infiammazione l'infiammazione può scendere anche verso le corde vocali perché è molto arrossato e molto infiammato il bambino quindi la terapia è necessaria e anche qui ti chiedo quali sono le possibilità di caduta recidiva? ma allora sono minori rispetto alla? di per sé la scarlattina può recidivare però non è tanto frequente vedere recidive io le ho viste però diciamo che non è nella maggior parte dei casi che recidiva la scarlattina e per quei bambini con la scarlattina è consigliabile un'alimentazione particolare oppure? no è uguale perché la gola è molto infiammata molto arrossata quindi chiaramente i cibi troppo caldi non va bene i cibi magari che nella diglutizione sono un po' troppo duri che magari possono dar fastidio e il bambino poi non mangia niente adesso ci sono quelle domande che volevo porti che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici Francesca ci chiede come posso monitorare la crescita e lo sviluppo del mio bambino? normalmente il primo mese si fanno almeno due controlli dal pediatra poi i mesi successivi almeno una volta al mese poi invece dal secondo anno in poi si può fare ogni due mesi ogni tre mesi Marianna invece voleva chiederti quali sono i segnali di un normale sviluppo e quali sono quelli di possibili problemi neuropsichiatrici? allora chiaramente qui è un po' più difficile accorgersi però in genere se il bambino va all'asilo nido o alla scuola materna mentre gli altri bambini giocano molto tra loro litigano anche certi bambini si isolano completamente o prendono un giocattolino e si mettono in un angolo o addirittura ricordo una bambina che passava tutto il tempo praticamente guardando all'angolo della stanza senza neanche giocattolo in mano e praticamente ignorava tutti gli altri bambini se la maestra non le rivolgeva la parola stava anche tre ore quattro ore così questo è un caso estremo ci sono dei casi intermedi però dobbiamo vedere sempre se il bambino non partecipa alle attività consuette anche della famiglia Anna invece ti chiede quali integratori vitamini ci sono consigliati per i bambini? allora ma io consiglierei la vitamina D almeno fino a sei anni perché comunque essendo un periodo di crescita la vitamina D serve perché il bambino possa assorbire il calcio che è necessario per le ossa poi non tutti prendono latte certi dopo una certa età non ne vogliono più quindi un po' di vitamina D è sicuramente necessaria poi ci sono altre vitamine così tipo i vitaminici che possono essere utili soprattutto se il bambino ha poco appetito invece pensando alle vaccinazioni Marta ti chiede quali sono le vaccinazioni raccomandate per i propri bambini e in che periodo andrebbero somministrate? allora ci sono le vaccinazioni obbligatorie e si inizia a fare le vaccinazioni obbligatorie intorno a due mesi e mezzo poi si fa una dose di richiamo dopo due mesi circa e poi si fa dopo altri sei mesi un'altra dose di richiamo e poi se ne fa un'altra intorno ai due anni e queste vaccinazioni sono obbligatorie una volta che uno si presenta ad igiene pubblica la prima volta gli danno un foglio dove c'è scritto torna in tale data quindi uno non deve preoccuparsi molto poi ci sono le altre quattro che si fanno obbligatorie intorno a un anno e tre mesi che sono morbillo, rosolia, parottite, varicella invece Michelangelo ti chiede a che età è consigliabile portare il bambino dal dentista per la prima volta? allora bisogna vedere se il bambino non ha nessun problema oppure se ha qualche problema perché se ha qualche problema bisogna portarlo possibilmente subito ma scegliere un dentista per bambini adesso anche i laureati in odontoiatria hanno la specializzazione in odontoiatria infantile diciamo che a parte le cognizioni tecniche in più che magari fanno nella specializzazione c'è anche un approccio psicologico diverso che un dentista per bambini fa perché un dentista per adulti fa gli appuntamenti e non ha tempo da perdere un dentista per bambini ha un approccio diverso e sa già come approcciarsi al bambino e invece passiamo ai disturbi del sonno Roberta chiede proprio come si può gestire l'insonnia o i cosiddetti terrori notturni allora beh l'insonnia ci sono bambini che dormono meno certi dormono proprio poco diciamo esistono prodotti per bambini a base di melatonina che aiutano nell'addormentamento però certi poi magari si svegliano dopo un paio d'ore lì bisogna vedere il singolo bambino perché in generale non si può dire non c'è un trattamento uguale per tutti poi bisogna vedere se magari anche i genitori da piccoli avevano gli stessi problemi perché un po' è anche familiare ah ecco molto interessante questo aspetto invece un'altra grandissima fonte di terrore per i genitori sono i cosiddetti incidenti domestici ci sono delle raccomandazioni da dare guardi proprio un paio di giorni fa un bambino è caduto dal letto un bambino piccolo forse avrà avuto 7 mesi 8 mesi che è il periodo più a rischio perché fino a 3-4 mesi non ha la capacità di muoversi e quindi il bambino sta fermo poi però di colpo un giorno si gira e può cadere chiaramente pestando la testa possono esserci anche complicazioni gravi anche se sono rare come l'emorragia cerebrale i segni di ipertensione endocranica li conosciamo e soprattutto se uno vomita senza motivo se uno vomita subito magari si è spaventato ma se vomita dopo 6-7-8 ore può anche essere che c'è un problema importante quindi bisogna mandarlo subito in ospedale e invece pensando agli screening Francesco ti chiede quando è consigliabile effettuare un test di screening per eventuali problemi di salute e su questo mi rilaccio anche a quell'esempio che mi hai fatto proprio diciamo prima di iniziare la nostra intervista di quel facoltoso miliardario americano che aveva spero allora diciamo prima di tutto cosa si fa in Italia adesso alla nascita in ospedale si fa un prelievo di sangue al neonato e si esegue lo screening per mi pare una trentina di malattie rare forse adesso sono già arrivati a 35 lo fanno in tutti i nidi e mandano il campione all'ospedale microcitemico che esegue il test e quindi consente la diagnosi precoce di 35 malattie rare a cosa serve? serve così a diagnosticarlo subito perché ci sono certe malattie che se non vengono diagnosticati subito non si può iniziare la terapia o non si può iniziare la dieta come per esempio nella fenilchetonuria dove se non si inizia subito una dieta priva di fenilalanina il bambino può avere gravi danni cerebrali poi c'è il cosiddetto screening per la lusazione congenitata dell'anca che ormai facciamo a tutti e tutto sommato evita che magari un bambino che è predisposto nelle bambine frequenza 3 a 1 rispetto ai maschietti e quindi se noi lo sappiamo possiamo chiaramente iniziare la terapia preventiva e così poi dopo qualche mese ha risolto il problema fino a 20 25 anni fa che non si sapeva non si faceva poi succedeva che magari il bambino iniziava a camminare e ci accorgevamo dopo che magari poteva avere quel problema e aveva dolore mentre camminava perché alla fine poteva avere anche dei sintomi che altrimenti non si spiegavano ed erano causati proprio da quello comunque fare un'indagine su tutte le possibili patologie è da noi e da nostre parti impossibile adesso sono venuti fuori ultimamente è venuta fuori la possibilità di fare un'indagine su antigeni tumorali che da qualche anno esiste anche in Italia poi ci sono come si dice altre cose che qui non vengono fatte per esempio se ci sono sintomi strani a Roma o a Milano con un'indagine sui capelli si può vedere se ci sono inquinanti tossici tipo mercurio o piombo o altri poi negli Stati Uniti possono fare una decodifica del DNA cercando tutti i geni possibili però un miliardario americano l'ha fatto e ha speso più di un milione di dollari un milione e tre per fare dei check sì sì ma poi aveva già 74 anni ed era sanissimo è fantastico perfetto noi ringraziamo il dottor Pibri per essere con noi oggi ci rivedono sicuramente nella prossima puntata di questo approfondimento sulla salute grazie dottor Pibri è stato un piacere e grazie a voi per averci seguito a presto grazie a tutti